Al Pigliacelli, Montorri e Tagliacozzo scendono in campo per la ventunesima giornata del Gironea di promozione. I gialloneri vogliono confermare l'ottima prova in Coppa contro il Villamattoni e riprendere la marcia dopo qualche stop di troppo. Dall'altra parte una delle ultime chiamate per il Tagliacozzo, fanalino di coda a meno 10 da Lugo. Dirige Domenico Pace dell'Aquila. I gialloneri chiudono la pratica nei primi 45 minuti, ma il primo squillo è Marsicano con Blasetti che trova l'opposizione di Rapagnani. Il Montorrio reagisce subito con una doppia occasione capitata sui piedi di Di Francesco, che prima manda alto a tu per tu con Terscialla e poi guadagna solo un corner. Al sesso Ridolf inizia a prendere le misure alla porta difesa da Terscialla. Prima trova solo l'esterno della rete e poi incorna sul servizio di Fulvi dalla sinistra, ma la sfera viene risputata indietro dalla traversa. A rimorchio Massacci non è preciso. Sull'altro versante il solito Blasetti prova a scardinare la difesa montorriese, ma non crea troppi problemi a Rapagnani. Al tredicesimo doppia che otto occasione per il Montorrio. Costruzione perfetta, Checchiarelli manda in porta a Mosca. Terscialla si oppone due volte. Dieci minuti più tardi sugli sviluppi di un corner battuto da Checchiarelli, capitano Ridolfi di testa spezza gli equilibri. I ragazzi di Mister di Amici se non si accontentano. Checchiarelli pennella alla perfezione un calcio di punizione a scavalcare la barriera, ma Terscialla è super a toglierla dall'angolo alto. Sulli sviluppi del corner successivo è proprio il numero dieci a calciare di potenza per il 2-0. Golle assist per l'ex Torreza e Mociano. Poco dopo la mezz'ora protesta il Montorrio. Di Sante recupera palle e scalli un destro potente da oltre 20 metri. La palla colpisce la traversa. Per pace non ha superato la linea di porta. Il replay può ritarci a capire meglio. Poco male per i padroni di casa, perché nel finale di tempo prima l'autogol di Tabacco sul traversone di Mosca e poi la doppetta di Ridolfi servito da Monaco fissano il punteggio sul 4-0. Partita già chiusa all'intervallo. Le immagini di mano il centurame ci portano alla ripresa, dove i ritmi si abbassano, ma le occasioni non mancano. Il Tagliacozzo torna in campo con l'obiettivo di ridurre il passivo. La punizione di Tullio termina fuori dallo specchio. Al dodicesimo, genialità di Di Sante, che scorge tercialla fuori dai pali e prova a beffarlo da centro campo. L'estremo difensore riesce a toccare in corner. Un paio di minuti più tardi, Fulvi si invola verso la porta. Serve Ridolfi tutto solo al centro dell'area, che a porta spalancata si divora la tripletta, che non arriva nemmeno al diciassettesimo, quando si oppone tercialla, che poco più tardi si distende anche sul tentativo di chiacchierelli dal limite. Il Tagliacozzo comunque non molla, ma le incursioni pericolose derivano tutte dall'estro di Blasetti, che in due occasioni libera la conclusione all'interno dell'area, ma trova solo il corner. Rapagnani torna protagonista al trentaseiesimo per neutralizzare un calcio di punizione pericoloso di Blasetti e tre minuti dopo una conclusione dalla lunga distanza. Allo scadere arriva il 5-0 giallo-nero, con la prima marcatura del classe 2006 Semir Degliu, complice una deviazione che mette fuori causa Tercialla. Titoli di coda al Pigliacelli, Montorrio batte Tagliacozzo 5-0 e recupera tre punti al San Benedetto Venere, sconfitto a Guardiavomano. Ora i punti di differenza sono sei e domenica c'è lo scontro al Manfredo Profeta, crocevia fondamentale per la stagione di San Benedetto, Montorrio e Celano. Mister un 5-0 al Tagliacozzo, una partita che nel primo tempo non c'è stata storia. No, non c'è stata storia perché siamo stati veramente molto bravi noi ad approcciare in maniera eccellente, devo dire. Queste sono partite che si possono mettere bene o si possono complicare, dipende da come la interpreti. Noi l'abbiamo interpretata bene, abbiamo sbagliato tantissimo sotto porte i primi dieci minuti, infatti ci sono quelle partite che ti gira tutto male, magari pensi che la giornata storta, invece abbiamo continuato a giocare, a fare veramente bene e bene, facendo anche delle ottime giocate, per cui sono veramente contento, ma lo ero già da mercoledì, insomma vedo la squadra in crescita, c'è stato purtroppo questo passo falso di Guardiavomano, ma Guardiavomano vedo che fare punti con tutti quanti, anche oggi ha battuto la Capolista, per cui non era neanche una partita facile, no, per cui è stato questo passo falso purtroppo nel mio cammino, per quello che mi riguarda, però ripeto vedo la squadra in crescita, in salute, siamo molto fiduciosi perché stiamo riprendendo autostima, la cosa che ci mancava quando sono arrivato, avevo trovato una squadra un po' moralmente giù, invece stiamo ritrovando autostima, ci divertiamo in mezzo al campo, facciamo delle buone cose, dobbiamo continuare su questa strada. Assolutamente sì, per quanto riguarda il primo posto, assolutamente sì, è chiaro che è una partita difficile, loro adesso non lo so, troveranno un ambiente incavolato perché vengono da una sconfitta, tutto quello che ti parla, sappiamo di San Benedetto un ambiente abbastanza caldo, ma noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, adesso non è che ci sono alchimie particolari o cose particolari, noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, i ragazzi mi hanno dato piena disponibilità dal primo giorno che sono arrivato, è chiaro che dobbiamo credere di più in quello che facciamo secondo me, perché abbiamo veramente secondo me è una buonissima squadra e lo spirito è questo, lo spirito è questo, sarà completamente un'altra partita rispetto a quella di oggi, ci sarà da soffrire tanto, ma le partite sono queste, sono dei momenti in cui riesci a giocare, a fare del bel gioco, a proporti, tutto quanto, sono dei momenti in cui devi soffrire, devi tenere botta, domenica molto probabilmente dovremo tenere botta, ma lo sappiamo, insomma, siamo pronti a tutto, sicuramente non abbiamo paura di andare ad affrontare la Capoliccio, anzi, non vediamo l'ora di fare questa partita. Ma guarda no, ho trovato una squadra seconda in classifica, per cui, cioè, io penso che il Montoro fino al mio arrivo sta facendo un ottimo campionato, è chiaro che ho trovato un ambiente un po', ma parlo dell'ambiente, non soltanto la squadra, non dico depresso, ma è un ambiente a cui manca l'eccellenza, lo sappiamo tutti quanti, questa è una piazza che merita di tornare in eccellenza, nella categoria superiore, e quindi ci stiamo adoperando un pochettino tutti quanti, lo dovremmo fare un po' con l'aiuto di tutti, perché vedo che siamo rimasti in pochissime persone, anche sugli spalti c'è pochissima gente, qui dovremmo ricompattare un pochettino l'ambiente prima di tutto e poi pensare al campo, no? Se veramente vogliamo raggiungere questo obiettivo, perché ho trovato un ambiente un po' depresso, sinceramente, non parlo della squadra, parlo in generale, però mi rendo conto che questo, possiamo combattare l'ambiente attraverso i risultati, noi ce la stiamo mettendo tutto, però vorrei che anche fuori dal campo la gente ci deve essere un po' più una mano, perché da soli non andiamo da nessuna parte, anche se il grosso lo facciamo noi che andiamo in campo. No, noi sapevamo che era difficile, venivamo comunque da cinque ottime prestazioni e prima parlavo con il direttore dicendo che sicuramente è l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà a partire da quando abbiamo giocato a San Gregorio, che comunque venivamo da un 2 a 1 per loro, uno pari a Atria, uno pari a Trasacco e la stessa misermina abbiamo perso 2 a 1, siamo stati sempre in partita, sappiamo che comunque era difficilissimo per noi, ma non solo Montorio, tutte le partite, però se devo fare un plauso tra tutte le squadre che ho viste, San Gregorio e Montorio è quella che ci ha impressionato di più, quindi nulla possiamo dire, dico bravi per il secondo tempo, loro un po' si sono fermati e noi siamo riusciti a tenere testa fino alla fine. Certo, i primi 20 minuti, tra virgolette, 20-25 l'erano, ci siamo difesi anche se Montorio avrebbe potuto segnare due o tre circostanze, forse sulla palla dei Blasetti che potevamo andare in vantaggio, ma non è quello, io vedo che il secondo tempo, a prescindere, ripeto, che il Montorio si è fermato, sicuramente siamo riusciti a rimanere in partita. faccio un applauso ai nostri, perché in questa situazione non stiamo mollando mai, a prescindere che la salvezza è un'utopia, però non posso dire che non regaleremo niente a nessuno, a cominciare anche da domenica prossima con Celano, come è successo, ripeto, con San Gregorio, come è successo a Trasacco, vogliamo onorare, tra virgolette, quello che è stato fatto da due anni a sta parte. Erano sette in campo, di cui un paio fuori, quindi, ripeto, è una crescita che sono due anni, ripeto, e continuare a dire, l'altro anno siamo stati bravi e fortunati, quest'anno meno bravi e meno fortunati, perché non è che le colpe sono degli altri, ripeto, cercheremo di rispettare il campionato, soprattutto pure in fase che dobbiamo giocare comunque con squadre che stanno lottando insieme a Montorio, e cercheremo di dare il massimo con l'impegno giusto che ci stiamo mettendo fino alla fine. Sono, tra virgolette, molto amico con San Benedetto, e quindi se parliamo di una situazione di, capitemi se parlo, di normale che tifo per San Benedetto, però, ripeto, veder giocare oggi in Montorio, continuo a dire, abbiamo fatto delle prestazioni con la stessa squadra che avete visto oggi, non siamo stati mai in difficoltà come oggi, quindi, vedere i centrocampisti che si inseriscono bene, vedere i due tersini che scendono sempre, vedere i campi gioco di 60 metri, ben riusciti, ci metto da una parte il fatto che noi sicuramente siamo più deboli, però, anche le altre squadre che sono più forti di noi non hanno dimostrato. Per quello che ho visto io ad oggi, Montorio mi ha impressionato di più, perché, ripeto, anche a Celano siamo andati in una partita come questa, a Corti, abbiamo perso 2-1. Ripeto, continuo a dire, se devo parlare di partite che ho visto, Montorio mi ha entusiasmato di più, poi, se devo di fa, dico, magari, tra virgolette, tifo Celano o San Benedetto essendo squadre marsicane, però, comunque, dico che Montorio, lo ridico, è la squadra che mi ha fatto più impressione di questo campionato, per adesso ad oggi. All'andata era un po' titubante, non mi era piaciuta, oggi mi è piaciuta e gli faccio l'imbocca al lupo perché con noi si comportano sempre bene quindi se non succede che vincono i marsicane ti fammi un montoro.